Musica Sconto del 30% sui viaggi effettuati da ottobre a dicembre, del 20% sui viaggi effettuati in luglio e settembre e del 10% per tutto il mese di agosto, prenotabili in qualsiasi giorno e quanto prevede l'accordo tra la Tirraniacin e il Consorzio Sardegna Turismo Servizi prorogato fino al 31 dicembre. L'obiettivo che due partner si sono dati lo scorso aprile quando è stata lanciata l'iniziativa è stato pienamente raggiunto in questi primi tre mesi di attività con oltre 2000 pronotazioni a tariffa agevolata realizzata attraverso il sito del Consorzio. Ora con la proroga della convenzione si intende sostenere il turismo in Sardegna, viene spiegato in una nota anche nella stagione successiva al picco estivo. Oltre 300 strutture ricettive in tutta la Sardegna sono indicate sul sito sardegna sulla cresta dell'onda.it dove si può compilare la richiesta di preventivo sul soggiorno e una volta confermata la sistemazione in Sardegna ricevere il codice sconto da applicare al prezzo del trasporto con Tirraniacin verso i porti di Olbia, Cagliari e Porto Torres.